Gloria, gloria al figlio Nel 2002 a Toronto durante la GMG Giovanni Paolo II ci disse Chi si sente amato non può non amare E questo è stato un po' il motto che mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora Io mi sono sentita fortemente amata da Dio Nel momento più triste o nel momento più buio della mia vita E da quel momento non sono più stata in grado di non trasmettere il suo amore Gesù ci ama infinitamente e non possiamo non gridarlo a tutti Perché se ci sentiamo amati non possiamo non trasmettere questo infinito amore Questo infinito amore che è gioia ed è un amore gratuito